Hai sentito parlare di Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi? La loro storia è stata breve ma intensa. E ha catturato l'attenzione del pubblico fin dall'inizio. Dopo la fine del Grande Fratello, i fan sono rimasti affascinati dalla loro amicizia. E le recenti vicende hanno aggiunto ulteriore suspense. Ci sono stati scontri, incomprensioni, e frecciate tra i due. Anche dopo il reality show, i fan hanno continuato a seguire da vicino la loro relazione. Una foto pubblicata tempo fa aveva fatto sorgere dubbi sul fatto che potesse esserci qualcosa di più profondo tra loro. Le dichiarazioni di Giuseppe in seguito hanno aggiunto ulteriore interesse alla vicenda. Ma ora arriva una nuova svolta. E tutto grazie a una foto condivisa da Beatrice sul suo profilo Instagram. Questa storia d'amore travagliata continua a tenere col fiato sospeso i fan, che sono rimasti entusiasti di vedere i due insieme di nuovo. Beatrice aveva dichiarato di aver messo una croce su Giuseppe. Ma ora sembra che le cose siano cambiate. Dopo un invito rifiutato e tante vicissitudini. I due sembrano aver risolto la loro situazione. La foto li ritrae insieme. Entrambi con lo stesso modello di cellulare. A dimostrare una certa sintonia tra loro. Questa nuova svolta ha acceso di nuovo la curiosità dei fan. Che non vedono l'ora di scoprire cosa riserverà il futuro per Giuseppe e Beatrice. La storia di questa coppia appassionata continua a tenere banco sui social. E c'è chi non vede l'ora di scoprire come andrà a finire. Che tu sia un fan sfegatato o solo un curioso spettatore. non puoi fare a meno di rimanere coinvolto da questa vicenda. Le storie d'amore hanno sempre il loro fascino. E quella tra Giuseppe e Beatrice non fa eccezione. Resta sintonizzato per scoprire nuovi aggiornamenti su questa coppia che ha fatto parlare di sé per tanto tempo.